Buonasera e benvenuti a Lontano Lontano. Lontano Lontano che presentiamo in festa mobile e che è italiano. Ed è la storia di tre signori che sono Attilio, Giorgetto e il professore, sono tre pensionati romani che come capita di sentire spesso in giro non sono ricchi per cui a un certo punto cominciano a meditare perché non raccattare tutti i propri risparmi e andare a vivere in un posto dove la vita costa meno. Un posto che va dalla Bulgaria alle Azzorre a posti ancora più esotici. E quindi racconta questa avventura, non l'avventura di andare in un paese lontano, ma l'organizzazione della partenza per andare a stare meglio. Attilio, Giorgetto e il professore sono interpretati da Ennio Fantastichini che come sapete... Grazie. Grazie. Giorgetto, Giorgio Colangeli. E il professore Gianni Di Gregorio che oltre... Oltre che uno dei tre protagonisti è anche naturalmente regista, naturalmente perché li ha sempre fatti così, regista e sceneggiatore del film. E poi voglio aggiungere, prima di invitare i due interpreti qui, che c'è un paio di cammei assolutamente meravigliosi di Roberto Erlecka. Veramente quando lo vedete sullo schermo è qualcosa di geniale. E invito Gianni Di Gregorio e Giorgio Colangeli. Grazie. Prego. Fatevo. Grazie. Sono emozionato, onoratissimo di essere a Torino in questo festival che amo tanto. Ecco, grazie quindi. Anche io ringrazio, per me è la prima volta a Torino nel festival, si respira un'aria diciamo bellissima, poco glamour e tanta sostanza e tanta passione e tanta competenza anche. E quindi, emozioni a parte, sono veramente felice di essere qui con un film che ho amato prima ancora che ci fosse. Volevo dire che ci sono qui delle persone che hanno fatto il film, volevo pregarle di alzarsi anche loro. Anche Rai Cinema. Anche Rai Cinema. Angelo. Angelo, è vero, produttore. Non si alza. Sì, ecco, va bene, sono molto contento. È stato un lavoro molto intenso, molto intenso, sono successe tante cose. Poi ho trovato questi attori pazzeschi, per cui io ero incantato. Io mi dimenticavo di dare lo stop, perché rimanevo a guardarli, sperando che inventassero, perché hanno inventato anche molto. E il ragazzino invece era... Il ragazzino è proprio un ragazzino vero, un migrante, che è arrivato con la barca, che noi abbiamo trovato a Riace. E adesso sta in Canada, sta andando in Canada, come... Non devi fargli spoiler. Quindi va bene così. Non lo faccio parlare più, se no vi racconto tutto il film. È meglio bloccare. Se no vi racconto tutto il film. Va bene, voglio aggiungere qualcosa? No, buona visione. Veramente buon divertimento e grazie a tutti.